Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Filosofie medievali, dalla tarda antichità all'umanesimo di Giovanni Catapano, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci introduca la conoscenza di questo bel volume. Quindi prego, a lei! Un saluto cordiale e un ringraziamento per questa opportunità. Lo scopo di questo libro è offrire una presentazione sintetica e aggiornata della storia della filosofia medievale. I destinatari sono tutti coloro che per qualunque motivo intendono acquisire una conoscenza di base in questa materia. L'interesse per il pensiero filosofico medievale è in crescita, come in generale l'interesse per le culture e le civiltà del Medioevo e le attività di Italia Medievale, ad esempio, ne sono una riprova. La filosofia medievale purtroppo continua a essere poco insegnata a livello scolastico, a vantaggio della filosofia antica e soprattutto della filosofia moderna e contemporanea. Mentre invece, a livello accademico, il Medioevo è oggi uno dei periodi meglio studiati, nel senso che la ricerca scientifica in questo campo ha raggiunto degli standard molto elevati ed eccelle nell'ambito complessivo degli studi storico-filosofici. Il libro fa riferimento nella bibliografia specialmente ai risultati conseguiti dalla storiografia italiana più recente, che è anche una delle più rilevanti nel panorama internazionale. L'immagine del Medioevo come di un'epoca in cui la filosofia avrebbe conosciuto un arresto o un impoverimento rispetto ai suoi grandi inizi nell'antichità classica, è stata completamente demolita dalle ricerche effettuate oramai da vari decenni. Al contrario, oggi sappiamo bene che il Medioevo è stata un'epoca in cui la filosofia ha conosciuto un'enorme espansione, al di là dei confini della Grecità, ed è penetrata in tanti nuovi contesti culturali, linguistici, religiosi, raggiungendo dei livelli di profondità e di complessità che non hanno nulla da invidiare a quelli di altre epoche del pensiero umano. E quel libro cerca di far percepire la straordinaria ricchezza di idee, di dottrine, di opere filosofiche prodotte durante i secoli che siamo abituati a qualificare come medievali e si propone di accompagnare il lettore in un viaggio di scoperte intellettuali continue e, direi anche, sorprendenti. Vorrei spendere qualche parola a proposito del titolo e del sottotitolo del libro. Il titolo è Filosofie medievali e il plurale non è casuale, ma vuole indicare la pluralità delle teorie e delle pratiche filosofiche che sono sorte nel Medioevo. Viene presa in considerazione non soltanto la filosofia cristiana in lingua latina, che è sicuramente quella più vicina alla nostra tradizione culturale, ma anche la filosofia bizantina, araba, ebraica, a cui si aggiungono le prime forme di produzione filosofica in lingua volgare, incluso l'italiano. Tutte queste filosofie medievali sono comunque accomunate da un qualche legame con la filosofia greca antica, a differenza delle esperienze di pensiero fiorite durante il Medioevo in Asia Meridionale, in Asia Orientale, e queste ultime non sono state incluse nel libro. Il sottotitolo è invece dalla tarda antichità all'umanesimo, e qui ho voluto indicare l'opzione di periodizzazione adottata nel libro. Come è ben noto, i confini cronologici del Medioevo sono stabiliti convenzionalmente, e in particolare per quanto concerne il Medioevo filosofico esistono di fatto più convenzioni possibili. La tarda antichità e il Rinascimento di solito sono ritenuti i confinanti, diciamo così, a parte ante e a parte post del Medioevo in senso stretto. Qui, nel libro, invece, si è preferito considerarli come i periodi di transizione dall'età antica all'età medievale e da questa all'età moderna. Perciò la trattazione include un'ampia porzione sia della filosofia tardo-antica, dal IV secolo in avanti, sia di quella rinascimentale, tutto il XV secolo. E un tale approccio inclusivo, in particolare per quanto riguarda il Quattrocento, a mio avviso è una delle peculiarità significative che distinguono questo libro da altre esposizioni della storia della filosofia medievale. Illustrerei ora brevissimamente la struttura del volume che si articola in sei capitoli, suddivisibili a loro volta in due gruppi. Nel primo gruppo, i primi tre capitoli, ci si occupa delle filosofie pre-universitarie e nei tre capitoli rimanenti, invece, delle filosofie in epoca universitaria. Questo perché la nascita delle università nell'Occidente latino-medievale è stato un fattore di grande trasformazione nella storia della filosofia e in questo senso segna uno spartiacque tra un prima e un dopo. E quindi ho voluto però dare lo stesso spazio alle filosofie medievali prima di questo fenomeno rispetto a quelle che invece sono caratterizzate dalla presenza della istituzione universitaria. Nel primo gruppo, il capitolo iniziale tratta della filosofia nella tarda antichita latina. I grandi nomi che si incontrano sono specialmente quelli di Agostino e di Severino Boezio. Il capitolo secondo è interamente dedicato ai bizantini, agli arabi e agli ebrei in filosofia. Anche qui ci sono dei nomi molto importanti, conosciuti come Averroè, Maimonide, Gregorio Palamas e tantissimi altri. Il terzo capitolo torna nell'Occidente latino per effettuare una panoramica degli sviluppi della filosofia dalla Rinascenza carolingia, quindi tra VIII e IX secolo, fino al XII secolo incluso. Qui si trovano le figure di Giovanni Scoto, detto Eriugena, di Anselmo d'Aosta, di Abelardo, ma c'è anche una sezione riservata al pensiero delle donne. In genere si fa poca attenzione al fatto che noi non abbiamo alcuna opera filosofica di donne nell'antichità. le prime opere filosofiche giunte fino a noi sono state realizzate da parte di donne nel Medioevo. E qui anche ci sono nomi noti come ad esempio quello di Hildegarda di Bingen e poi altre donne autrici di scritti interessanti dal punto di vista della filosofia che forse sono un po' meno conosciute. Il secondo gruppo, dicevo, si occupa delle filosofie in epoca universitaria o come di solito si dice in epoca scolastica. I tre capitoli sono dedicati ciascuno a un secolo, quindi troviamo anzitutto il XIII secolo, un secolo ricchissimo dal punto di vista filosofico e teologico, ed è anche il secolo in cui la filosofia per la prima volta viene distinta come forma di sapere dalla teologia. È il secolo di giganti quali Alberto Magno, Buonaventura da Bagnoregio, Tommaso d'Aquino, che sono ciascuno dei capitoli di per sé rilevantissimi nella storia del pensiero filosofico. Poi abbiamo un capitolo sul Trecento dove si vedono anche gli sviluppi del sapere filosofico nelle sue diverse ramificazioni, la logica alla filosofia della natura, il pensiero etico-politico, il secolo di Don Scotto, di Meister Eckhart, del nostro Dante, di Ockham con il suo rasoio, di Wycliffe, di moltissimi altri. E l'ultimo capitolo, come annunciavo prima, è sul Quattrocento, il quindicesimo secolo sia universitario che extra-universitario, dove all'interno del mondo universitario, per esempio, c'è il fenomeno dell'aristotelismo, in particolare padovano, e al di fuori dell'università fioriscono dei grandi autori come Niccolò Cusano. Ma troviamo l'umanesimo italiano, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola, di tanti nomi che fanno parte della nostra tradizione culturale. Col volume chiuso da una bibliografia piuttosto ampia, anche se selezionata, nelle fonti primarie ho indicato tutte le edizioni italiane disponibili delle opere che ho menzionato nel corso del volume, in maniera tale che il lettore desideroso di approfondire possa anzitutto trovare facilmente una edizione nella nostra lingua in cui può leggere quelle opere e le traduzioni italiane di opere filosofiche medievali a un po' sempre di più. In questi ultimi anni è stato fatto un grandissimo lavoro per rendere disponibili anche i lettori della nostra lingua e per gli studi, lo dicevo prima, ho privilegiato le monografie pubblicate in Italia, anche qui rivolgendomi idealmente anzitutto a un pubblico italiano. Poi, chi vuole ha la possibilità naturalmente di estendere queste sue letture, queste sue conoscenze nelle altre lingue europee in cui si produce molta letteratura critica intorno alla filosofia e alle filosofie medievali. Se mi è permesso aggiungere qualche parola finale in questa presentazione citerei a sottolineare la dedica del libro. È un lavoro che nasce dalla mia esperienza didattica all'Università di Padova e quindi è un lavoro a cui hanno contribuito nella sua genesi anche studentesse, studenti, laureandi, dottorandi e il libro è dedicato a uno di loro e cioè Samuele Guagnano che ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Filosofiche il 18 luglio del 2023 con una tesi sul libero arbitrio angelico nella Suma Halensis, un'opera importante del primo pensiero scolastico francescano del 200 e neanche un mese dopo il 15 agosto del 2023 in un incidente di montagna ha perso la vita purtroppo. Ho voluto dedicare i volumi a lui per una serie di ragioni che rendono direi la sua figura esemplare. È un esempio di studente che ha scoperto la filosofia medievale all'università e se ne è innamorato. è un esempio di laureando che ha svolto una ricerca originale fornendo un contributo alla conoscenza di fonti in questo caso non ancora disponibili in edizione italiana e sulle quali però si stanno svolgendo attualmente ricerche importanti in campo internazionale. È stato anche un esempio di giovane filosofo che ha trovato nei testi del pensiero medievale una sorgente di ispirazione alla propria ricerca su grandi questioni filosofiche come quella relativa alla libertà. Perciò in sintesi è un esempio di come la filosofia medievale se viene adeguatamente conosciuta e interrogata sia ancora in grado di parlarci e di dirci cose importanti per la nostra vita e per la nostra umanità. In definitiva il libro è stato scritto per servire a questo scopo e direi che ci mostra che il Medioevo oltre che un oggetto di studio è qualcosa che può ancora entrare nelle nostre vite. È molto interessante anche perché l'esposizione ci fa capire la varietà e gli sviluppi anche del pensiero medievale e medievale. Quindi è il primo strumento per confutare tutte quelle aberrazioni che continuiamo a sentir dire sul Medioevo buio, scuro, barbaro, incivile che sono veramente diventati insopportabili. Quindi a tutti coloro che ne usano ancora oggi io consiglio di andarsi a comprare subito questo libro perché scopriranno delle cose veramente sorprendenti e delle quali siamo tutti debitori perché la crescita del pensiero filosofico avviene anche attraverso questa fase qui. E poi vabbè l'aspetto delle università liberano e liberano il pensiero dalla cappa religiosa che lo portano dentro al mondo laico che è un'altra grande trasformazione e anche una grande opportunità di sviluppo del pensiero stesso. Per cui io a questo punto ricordo il titolo perché così possono correre a comprarlo. Il titolo è molto semplice Filosofie Medievali Dalla Tarda Antichità all'Umanesimo appena pubblicato da Carocci e scritto da Giovanni Catapano che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere il nostro ospite che ce ne ha parlato in maniera così semplice chiara ed efficace. Io la ringrazio davvero tanto a tutti voi vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove oltre a questa trovate tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora professore e a presto. Grazie a voi. Grazie a voi.